Ebbene sì ragazzi, insieme a Discovery Plus mi sono presa a gioco di voi. Oggi sapevo che saremmo dovuti andare a fare un shooting. Ora che vi trovate nella fattoria di Wilde Teens potete mettere il vero outfit per la giornata di oggi. Buon lavoro! Non c'è la partita nella comfort zone, stiamo anche camminando oltretutto senza taxi. Diciamo che l'area della città, del posto in cui ci troviamo adesso, sono leggermente diversi ecco. Un gruppo spargerà la paglia sulla lettiera, mentre un altro gruppo con le carriole porterà via l'etane e lo metterà su un cumulo. Il mio amore per le mucche è infinito. E finché non puzzò, bene. Il mio amore per le mucche è finito.